Allora mi fate solo un piacere, siccome mancano sempre tre posti, ho visto che sono in fondo, siamo in carico a Camillo di controllare che siano due soltanto e quelli vicini ad un altro dicano manca uno, facciamo lì a contare, andiamoci su questo due e qui. Allora, appena partiamo adesso, vi faremo vedere un tipo di costituzione di domenica sulla donata in Bergamo, quindi passiamo un buon occhio adesso, quindi vediamo i bagni che sono qui e sono abitati. Comunque non c'è rimedio, allora dobbiamo accontentarsi e intanto vediamo l'ultima donata. Grazie. 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 Grazie.